Buon pomeriggio, benvenuti e benvenuti a una nuova edizione del TG6 che apriamo con la pagina dedicata al covid dalle 11 di oggi e fino alle 13 tutti i giorni fino a venerdì vaccinazione libera presso l'Hub di Via Tirino a Pescara e l'obiettivo è quello di raggiungere soprattutto le fasce più giovani della nostra comunità. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Da oggi a venerdì prossimo a Pescara nel Lab vaccinale di Via Tirino dalle 11 alle 13 ci saranno vaccinazioni libere, assessore, un ulteriore incentivo per la popolazione e per la cittadinanza? Sì, secondo quelle che sono state circolari del generale Figliuolo sostanzialmente si adotta anche a Pescara, anche se rimarrà l'impianto della prenotazione per evitare ovviamente assembramenti o attese inutili. Comunque già lo stavamo facendo precedentemente perché avevamo dato un target, perlomeno la ASL fino a 40 persone, di poter acquisire anche la vaccinazione senza la prenotazione. Da qui in poi ovviamente si accentuerà questa cosa che già stiamo facendo e l'obiettivo è sempre lo stesso, quello di vaccinare il più numero possibile di persone e soprattutto andare incontro a coloro che sono un po' resistenti a quella che è la vaccinazione cercando di permettere loro anche di non avere scuse, se possiamo dire, alla vaccinazione. Bisogna vaccinarsi perché è l'unico modo per uscire da questa situazione. Il mese di agosto, assessore, c'è stato un rallentamento fisiologico delle vaccinazioni in tutta Italia perché chiaramente si è dovuto anche dar modo ai sanitari di poter fare qualche giorno di ferie a settembre e si dovrebbe riprendere anche con il turno pomeridiano. Questa scelta va fatta insieme alla ASL, la affronteremo entro questa fine del mese per vedere quelle che sono le attività. Come dicevi prima c'è stato un piccolo rallentamento, lo dimostra il fatto che nell'open day che abbiamo fatto sabato su 700 vaccin disponibili solamente 400 sono stati coloro che hanno aderito, però contiamo che ovviamente ci sia sempre disponibilità per vaccinare. Poi è ovvio che bisogna fare anche conti con quelle che sono le farmacie che oggi fanno le vaccinazioni ai medici, quindi probabilmente una parte delle attività sarà anche assorbita da costoro. Noi siamo pronti non appena chiariremo il quadro vaccinale con la ASL per ripartire di slancio. Rimaniamo a Pescara, le classi del liceo Marconi saranno sparpagliate in 5 diverse strutture della città. Ad annunciarlo è stato il presidente della provincia Antonio Zaffiri, ma studenti e insegnanti non sono assolutamente d'accordo con la decisione presa a 20 giorni ormai dal ritorno sui banchi e sono quindi scesi in piazza davanti alla provincia per manifestare. La scuola non è solo quattro mura, la scuola è laboratori, è strutture, unità, possibilità di accogliere disabili, quindi siamo molto delusi. Manca una ventina di giorni al ritorno sui banchi di scuola e il futuro del liceo Marconi di Pescara è ancora incerto. La sede di via Marino da Caramanico dovrà essere demolita e ricostruita. Nel frattempo i circa 1600 studenti, ha fatto sapere il presidente della provincia Antonio Zaffiri, dal 13 settembre dovranno essere dirottati altrove, in altre strutture. Così studenti, insegnanti e sindacati si sono dati appuntamento sotto il palazzo della provincia per dire no alla proposta delle istituzioni. Non si sa neanche se sono effettivamente delle sedi congrue e idonee al tipo di attività del Marconi, che ricordiamo è una scuola per cui per esempio l'educazione fisica è fondamentale e il fatto che per esempio in queste sedi non ci sia una palestra di riferimento per l'istituto è una mancanza gravissima. Oltretutto è un istituto che comprende moltissime persone con disabilità e quindi anche nella scelta delle sedi alternative bisognava tenere conto di questo. Alcuni studenti si sono ritirati, almeno 20-30 studenti si sono ritirati. Per le famiglie sono stati grossi problemi organizzativi per quanto riguarda l'acquisto dei libri, perché voi potete capire che una famiglia se non sa in che plesso capita il figlio non sa manco se lo risegnerà nella stessa scuola. Con un finanziamento della regione di 666 mila euro, le 64 classi del Marconi saranno ospitate in 5 strutture diverse, in altre scuole, cioè l'Ipsias di Marzio Michetti, l'Aterno Mantone, l'Alberghiero De Cecco e l'Accademia Musicale Pescarese. Alcune classi invece saranno organizzate nell'ex sede Fater di Via Volta, mentre gli uffici amministrativi andranno in Via Avezzano nell'ex sede della Croce Rossa. Qualcosa si può fare, prima di tutto rendere donne le sedi, quelli che non lo sono, cioè quelle di Via De Peligni e quella di Via Alessandro Volta, che dovrebbe essere il famoso Palazzo Fuxas. Non sono due scuole, a differenza delle altre tre, quindi capire come fare a rendere le donne nei tempi giusti, cioè entro il 13 settembre, perché il timore è quello che queste due sedi non siano pronte e che i ragazzi debbano in qualche modo far fronte di nuovo a una DAD seppur temporanea, prima cosa. La seconda cosa, mettere su un piano di mobilità per i ragazzi e come sfruttare i mezzi che già ci sono oppure fare un accordo con la tua e cercare di avere dei mezzi idoni per questi ragazzi che vengono da fuori Pescara. Avremmo voluto una soluzione condivisa, fanno sapere dal comitato Marconi-Quovadis, ma nessun dialogo è stato possibile. Il grande rammarico è quello di essere arrivati all'ultimo, sapendo che la demolizione era prevista da praticamente un anno, e arrivare a una soluzione così antipatica, così sgradevole per tutti, perché è una situazione in cui nessuno trova un vantaggio, si poteva ragionare in un modo diverso partendo tanti mesi prima. Numeri positivi per l'aeroporto d'Abruzzo nel mese di agosto. La saga punta così a consolidarsi anche per quanto riguarda il futuro, come spiega il Presidente Vittorio Catone. Ascoltiamolo. Presidente, siamo a fine agosto, come è andata questa estate per l'aeroporto d'Abruzzo in quanto a numeri? I dati sono estremamente esaltanti, abbiamo riniziato a fare numeri importanti tutti i giorni, su quasi tutti i voli, e anche le nuove destinazioni hanno risposto bene, soprattutto per quanto riguarda alcune città come Varsavia, Cracovia e anche Praga, dove notiamo anche ottimi numeri per quanto riguarda l'encoming. Per il prossimo inverno, per l'autunno che sta per arrivare, cosa possiamo dire? Abbiamo già raggiunto un piccolo e importante risultato grazie alla collaborazione con Ryanair che ci ha assicurato quattro voli su quattro destinazioni per noi molto importanti, quali Bergamo-Rio al Serio, Torino, Charleroi e Bucarest che già da ottobre avranno un giorno in più sia per l'arrivo che per la partenza. Parallelamente sondiamo e stimoliamo gli altri vettori per rafforzare una rotta o individuare una nuova destinazione, notiamo molta cautela da parte delle compagnie aeree perché la pandemia vizia molti dati e molte dinamiche, ma non ci fermiamo nel chiedere e vediamo se riusciamo a ottenere qualcosina in più per il prossimo autunno inverto, ma sicuramente stiamo già iniziando a lavorare per la Summer 2022. Per chiudere, Presidente, ci sono buone notizie anche per quanto riguarda l'avvio dell'iter per l'allungamento della pista? Sì, ci sono diversi progetti master plan sull'infrastruttura aeroportuale, il più importante, il più strategico è quello dell'allungamento della pista, il 15 luglio sono partite le lettere degli espropri per le particelle territoriali attinenti alla pista, da quel momento parte l'iter e non ci fermeremo un attimo per far sì che la pista si allunghi nel minor tempo possibile. La cronaca tre motopesca del tipo turbosuffianti, le cosiddette vongolare, sono state sorprese in aree di ripopolamento interdette alla pesca perché di particolare rilevanza sotto il profilo della tutela della vongola e in generale dell'ecosistema marino. Ad avvisarli la guardia di costiera di Giulianova sotto il coordinamento della direzione marittima di Pescara e del suo centro di controllo area pesca grazie al lavoro della sezione elicotteri del terzo nucleo aereo della guardia costiera con base a Pescara. Per questo tipo di attività sono previste sanzioni amministrative di 2.000 euro per ciascun comandante delle unità da pesca con relativa assegnazione di 7 punti al comandante e sulla licenza di pesca. Uno dei motopesca è stato sanzionato per avere il sistema di tracciamento spento con ulteriore verbale amministrativo di 2.000 euro e relativa assegnazione di 3 punti. Sempre nell'ambito dell'attività di verifica e monitoraggio svolta dalla guardia costiera è stato sanzionato negli ultimi giorni un peschereccio per aver transitato nell'area marina protetta a Torre del Cerrano dove non sono consentiti né transito né tantomeno la pesca applicata alla sanzione amministrativa anche in questo caso di 2.000 euro. Andiamo avanti, apriamo la pagina dedicata alla cultura e agli eventi presentata questa mattina a Pescara la terza edizione del Festival d'Annunziano. Quest'anno sarà dedicato al tema La città che sale, ritmo, velocità e movimento. Scopriamo di più nel servizio. Abbiamo riscontrato la grande volontà di interessarsi alla figura a tutto tondo che è stata Gabriele D'Annunzio, la sua vita e la sua epopea e quindi quest'anno c'è la terza edizione che in realtà è la prima edizione del Festival d'Annunziano. Speriamo che sia un festival che possa sorgere ai livelli di altri festival culturali importanti che ci sono in Abruzzo, in particolare città di Pescara. Ricercheremo una collaborazione sempre più intensa con il Festival Flaiano e questo per noi è un grande momento anche di recupero della centralità di Pescara sullo scenario nazionale e internazionale. Oltre che promuovere la parola e il ritmo e il movimento, anche quello di chiedere generosità ai cittadini di Pescara, abruzzesi e italiani nel frequentare gli eventi. Non imponiamo l'acquisto di un ticket ma di un contributo liberale per la rinascita della Pineta, cioè chiunque verserà una risorsa frequentando questi eventi culturali importanti che ci sono, questi soldi saranno poi consegnati al comune di Pescara, al comune di Ortona, agli altri comuni della costa dei Trabocchi, cioè ai luoghi d'Annunziani che sono stati così duramente colpiti dagli incendi ultimi scorsi che per noi sono una ferita aperta, sanguinante che però dobbiamo saturare e far rinascere. Questa è Pescara da sempre, da quando è nata ad oggi e anche dopo il Covid Pescara sta dimostrando una grande effervescenza, tante attività che ripartono, che crescono, ma questa è Pescara, oltretutto col Festival d'Annunziano allunghiamo anche la stagione estiva perché andremo fino al 12 settembre, Pescara è piena, scoppia di gente, di turisti che avranno anche la possibilità di continuare a stare a Pescara godendosi questo Festival d'Annunziano che come iniziative, come spettacoli è sicuramente di livello nazionale ed internazionale. L'esibizione di Giuliana Desio ha concluso l'edizione 2021 dello Spoltore Ensemble, la rassegna che l'anno prossimo si appresta a spegnere le 40 candeline, vediamo. Giuliana Desio a Spoltore Ensemble, allora favole bellissime, raccontate in napoletano, accompagnate la musica jazz, tanto entusiasmo del pubblico, ci riscopriamo bambini? Io mi riscopro più adulta invece perché mi sono trovata, mi trovo a fare in questo spettacolo cose che qualche anno fa non avrei avuto il coraggio di fare, artisticamente parlando, nel senso che non mi sono mai considerato un'attrice da leggio, mentre invece ho fatto vivere il leggio, non mi sono mai considerato una cantante, anzi invece ho cantato, per cui per me questo è un divertimento che però mi fa un po' crescere anche, quindi le favole e poi le favole queste qui non sono proprio tanto favole da bambini, sì, insomma sono favole anche per adulti perché sono favole più crude di quelle che noi vedevamo da bambini che hanno così edulcorate, quelle della Disney bellissime, sono favole in cui c'è anche per me artisticamente come un divertimento che mi ha fatto crescere. Un commosso ricordo di Massimo Troisi, tanta napoletanità ma anche tanta gioia di vivere. Molta gioia di vivere, soprattutto di far divertire il pubblico, io personalmente come se salgo su un parco scenico il pubblico non si deve annoiare, mai, non si deve annoiare perché tutti gli spettacoli che ho fatto e lo dico anche con poca umiltà, per tutti gli spettacoli che ho fatto un teatro che ho scelto io di fare, sono stati tutti gli spettacoli che hanno avuto successo perché non erano spettacoli noiosi, perché erano spettacoli che parlavano al pubblico e non erano delle vippe insomma autoriferite, stasera abbiamo dato al pubblico della buona musica, un'attrice che canta, che chiaramente non è Barbara Streisand, però è una cosa curiosa vedere mai che canto, una cosa nuova, delle favole forse mai sentite, poco conosciute e tanta allegria e anche voglia di ridere e di divertirsi perché ci si è riso molto, secondo me il pubblico ha bisogno di ridere in questo momento. Sì, è stata molto molto brava e tra l'altro è la prima volta che viene sul nostro palco scenico dopo 39 anni, quindi è veramente brava, ha regalato a questo festival una serata bellissima, ma da grande artista che la conosciamo tale. L'anno prossimo sono 40 anni di una rassegna amata in tutta Italia. Sì, abbiamo voluto testardamente continuare questa manifestazione senza nessuna interruzione, l'anno scorso con un paio di serate, quest'anno con sei serate e con un cartiglione di tutto rilievo che sta nella storia e la tradizione dello spolto d'ensemble per prepararci degnamente siccome questo festival merita alla quarantesima edizione, appunto dopo 40 anni. Dal 26 al 29 agosto, quattro giorni a Piancarani di Campli nel Terramano, dedicati a due specialità del territorio abruzzese, l'arrosticino e il formaggio fritto. Manifestazione giunta alla terza edizione, vediamo. Torna il terzo festival dell'arrosticino e formaggio fritto, vicino a me l'organizzatore Palmarino di Pancrazio. Palmarino, come sarà organizzato l'evento quest'anno? Quindi il terzo festival dell'arrosticino e formaggio fritto, dove proporremo i nostri prodotti, tutta produzione propria, chilometro zero, nella nostra azienda, dove allietteranno le serate dalla prima in Regina, la cover band dei Queen, la seconda sera del 27 Angelo Famao, il 28 Pier Paolo del Grande Fratello, sold out, sold out, sold out è la parola grossa di questi periodi e il 29 agosto i tequila. I prodotti presentati alla manifestazione saranno la pecola alla gallara, arrosticini, appunto, formaggio fritto e formaggio fritto al tartufo, sempre in nostra produzione, salsiccia, accompagnate da birre artigianali e bollicina. Anche quest'anno la beneficenza non manca? Assolutamente, infatti quest'anno abbiamo preparato un consistente numero di buoni spesa che abbiamo consegnato appunto al Sindaco, che consegnerà alle famiglie bisognose buoni spesa che verranno spesi nella nostra azienda, quindi quello che noi produciamo. Sindaco, anche quest'anno ha patrocinato il terzo festival dell'Aurosticino e del formaggio fritto qui a Piancarani, una quattro giorni che vede la valorizzazione del territorio, tanti big e soprattutto prodotti tipici locali. Esattamente, come amministrazione comunale siamo molto sensibili agli eventi che vengono organizzati qui sul nostro territorio e quindi anche quest'anno, per il terzo anno, l'azienda agricola di Pancrazio organizza questo bellissimo festival, la chiusura della stagione estiva e con grande sostegno l'amministrazione comunale comunque cerca di promuovere e stare a fianco di tutti coloro che hanno voglia di promuovere il territorio, sia da un punto di vista ambientale perché è una location che si presta particolarmente, sia da un punto di vista di valorizzazione dei prodotti tipici. Che valore aggiunto hanno queste aziende come l'azienda agricola di Pancrazio nel territorio? Sono fondamentali perché al di là dell'aspetto lavorativo permettono di mantenere viva quelle che sono le tradizioni del nostro territorio. Fanno sacrifici quotidiani perché oggi non è facile avere un'attività, specie un'attività agricola, ma proprio con l'esempio, con il sacrificio che tutta la famiglia di Pancrazio ha sempre fatto negli anni, si sta portando avanti una tradizione molto importante che permette a tutti noi di degustare i loro buonissimi prodotti. E ora lo sport con il calcio di Serie C ha trovato il primo gol con la nuova maglia proprio nel debutto stagionale in Coppa Italia contro l'Olbia e il neodifensore del Pescara Tommaso Cancellotti parla del suo grado di adattamento nel ruolo di centrale e dello stato di forma della squadra in vista della prima di campionato contro l'Ancona Matelica. Ascoltiamolo. Nasco come esterno di difesa o di centrocampo, però sono stato già impiegato in passato anche se non molte volte come terzo di difesa, ha un ruolo che comunque mi piace fare, cerco di interpretarlo nel migliore dei modi e penso di poter ricoprire entrambi i ruoli. Ci sono ancora un po' di carichi di lavoro da smaltire, gli allenamenti sono molto intensi quindi quasi sicuramente la forma migliore poi arriverà con un po' più di tempo, più avanti poi partita dopo partita. Credo che i presupposti sono buoni, ho giocato molto spesso contro le squadre del mister e hanno sempre spesso un ottimo gioco quindi sono sicuro che quest'anno anche noi esprimeremo un gioco ottimo. Il girone B è un girone dove la qualità di tutte le squadre si equivale quindi sicuramente qua ci sono giocatori esperti quindi consigli ne posso dare pochi però sicuramente allenarsi nel migliore dei modi tutti i giorni e poi affrontare la partita con sicurezza, conci della nostra forza. Marilungo la conclusione poi diffusa... Sabato esordio in campionato per il Teramo a Chiavari contro la Virtus Entella e sul fronte mercato la pista Riccardi per il momento sembra avere poche possibilità di portare alla fumata bianca. Ce ne parla Jacopo Forcella. A quattro giorni dalle sordi in campionato contro la Virtus Entella per il Teramo ancora il mercato e il tema numero uno sarà che la rosa disposizione di Federico Guidi è ancora ampiamente incompleta? Sarà che il successo in Coppa Italia col Monte Rosi di sabato pomeriggio ha dato quelle buone indicazioni che suggerirebbero un ulteriore sforzo per dare al tecnico le alternative di cui ha bisogno ed elementi titolari per esprimere al massimo le potenzialità della 4 e 3 che ha in mente. Non è semplice perché le difficoltà economiche abbastanza trasversali impongono di cercare soluzioni a costo contenuto. L'ultima idea è quella di Alessio Riccardi della Roma che appena rientrato nella capitale dopo il prestito alla Pescara è andato decisamente male. Ma in questo momento almeno sul fronte giallorosso non sembrano esserci le condizioni per la definizione di un affare che il diavolo ha provato a mettere in piedi poco prima di Ferragosto ma che non ha portato finora grossi frutti. L'ingaggio del giocatore di quelli elevati, la Roma vorrebbe rilanciarlo ma il Teramo sul piatto può mettere una cifra che nella valutazione che fanno nella capitale non è ancora adatta per arrivare alla fumata bianca. Per questo il direttore sportivo del Teramo Carlo Musa sta cercando di scandaliare alternative a Riccardi a meno che negli ultimi giorni di mercato non si creino presupposti più favorevoli con la Roma che a quel punto qualora non riuscisse a piazzarlo altrove si ritroverebbe un giocatore certamente in esubero e che aveva già contato come in lista di sbarco. In quel caso il Teramo potrebbe provare il colpo di coda per assicurarsi quello che era stato definito come uno dei migliori prospetti futuri del calcio italiano. Ma Guidi in questo momento non può non pensare anche alla partita d'esordio. Gara complicata quella di Chiavari contro un avversario appena a retrocesso e che ha voglia di ritrovare subito la cadetteria. Teramo che ritroverà una abruzzese nel biancazzurro come Andrea Paolucci, fascia di capitano dei Liguri e fratello di quel Lorenzo passato via Peschiara dal Biancorosso qualche stagione fa. Le partite saranno tutte dure, non ci sono di partite morbide quindi il campionato è un campionato difficile e troveremo squadre che agguerrite che battaglieranno su tutti i campi. È importante partire con la vittoria perché comincio a mettere le basi per quello che dovrei fare. Sappiamo che chi ha qualche partita in più deve dare tanto e quindi ben vengono le responsabilità e quindi andiamo avanti sempre a testa alta. Ma c'è positività, c'è comunque ambizione, c'è spirito di sacrificio e stiamo ripeto costruendo un qualcosa che è partito da Tavarone quindi noi cerchiamo di mettere mattone dopo mattone per fare una grande stagione. Grazie. 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 Grazie.